Diciamo che quest'oggi la partita è stata molto difficile nonostante loro fossero in 5 perché erano ben posizionati in campo e hanno chiuso tutti gli spazi e noi abbiamo trovato difficoltà comunque tra la bravura del portiere e comunque la barriera avversaria difensiva molto tosta che ci ha impedito insomma la via del gol.